Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e qui è Joseph Gamer e bentornati su Super Mario Party Oggi io sono tipo timido, mentre Joseph è... Io sono Pumba, guarda com'è contento con... Sono un po' bruttini, però c'è da dirlo Allora, partiamo subito con tanti mini giochi Oggi ci sfideremo, vediamo un po' chi riuscirà a portare la vittoria a casa E lasciate tanti like, più like vediamo, più video arriveranno Iscrivetevi al canale, tappate la campanella, Instagram, tutto giù in descrizione Come notate, dicevo, guardate un po', sto sbloccando i mini giochi Ho giocato un bel po' e me ne mancano soltanto 5 da sbloccare Quindi presto arriveranno tanti video sulle parti nuove Ma oggi continuiamo con mongolfiera e palloncini Allora, vediamo un po', fai scoppiare più palloni che puoi? Spingi Toad con la forza del vento, hai tre possibilità Ah, quindi bisogna presto un movimento Ok, sono pronta Anch'io, vediamo, non far partire il controller Io poi tra l'altro qui mi segno tutte le cose Anche se voi a schermo avete i punteggi Noi ce li segniamo perché così siamo sicuri di non sbagliare Allora, tu inizi, tu sei cumba, tu Prendi i palloncini, prendi i palloncini Ah, capito Quindi, ragazzi, qua è gioco di squadra Sì, sì In queste parti ci alleeremo No, c'erano tanti palloncini là Doveva spingere di più guai Francia, tu che hai fatto? Non ho fatto niente perché se soffiavo sarebbe andato troppo verso la tua No, ma qua di che è Francia, dobbiamo rifare Ah, no, no Trententativi Trententativi Vai, 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 vai Ok Vai tu Vai Rosalinda Ah, no, no, tu non sei Rosalinda Ok Qua molto meglio Fermo Fermo, fermo, Wario Vai tu, uomo, vai, vai, vai Troppo Mannaggia Oh, ma sempre punteggio D E ma alla fine penso ti dirà la cosa Perché devi fare tre volte Si deve sommare E alla fine si sono soffia, soffia, soffia Non troppo Ok, di poco Ok, adesso è C Vai Rosalinda Impegnati Rosalinda è andata bene Wario pure tu Oh, stiamo andando bene Amo, tocca a te Vai che siamo punteggio B, eh No Per il punteggio A Guarda quanto ci mancava qualche palloncino Il 175, no Non è male Allora, qua come punteggio ci assegniamo un punto a testa Perché appunto abbiamo fatto una cooperazione E Pip, orrà Orrà, vai così, sì Francesca si colpisce autonomamente, vai Un punto a te e non un punto a me Ok, andiamo ad un altro minigioco Vai Scendiamo e partiamo con il primo della fila Tutti gli altri a destra li facciamo nei prossimi video perché sono quelli sbloccati Diciamo Monete in corsa Vediamo di che si tratta Allora, segui il ritmo e colpisci i blocchi Salta con il giusto tempismo per ottenere una moneta rossa che vale 3 punti Per saltare si fa così Ah, ok, ok, ok Vediamo che succede Solo che non lo sento tanto io Non l'ho capito molto bene Eh, ma sai perché ci abbiamo il volume un po' troppo basso Basso Ma hai missato proprio Francesca, pure il secondo l'hai missato Guarda l'ombra a terra per capire No, abbiamo sbagliato te due qua Per guardare l'ombra Guarda quanti punti stai facendo Eh, Francesca, tu non stai al passo Qua ognuno si piglia il suo punteggio Sì, sì, qua sì, ognuno si piglia il suo punteggio E dico che io comunque già ho Non ci credo, l'ho scassato Ragazzi, ok No, pensavo di averlo rotto Mi hai disfatto, imbroglia Ha vinto Wario Noi ci abbiamo perso tutte e due Però tra i due che hai fatto più Il problema è che io pensavo avessimo finito Quindi l'ho abbassato E quindi, boom, tutto al Va bene, facciamo finta di nulla Ragazzi, stavo per rompere il controller Mettilo nel titolo perché era tutto vero Vai tu Uno Due No, non riesco a capire bene il tempo Ah Ok Veloce Ottimo Lento Ottimo Ok Mantenere il tempo Non è mai stata una mia No, per niente Però non è stato proprio Cioè, pure schioccando le dita Io non sono in grado Attenzione Yeah No, Franciae non vinci qua 46 a 42 No Joseph the Gamer dimostra la sua superiorità nei salti Quindi la vittoria Col controller ormai scassato Ha vinto Joseph the Gamer vince Siamo già 3 a 1 3 a 1 Eh, mi dispiace, Franciae Scegli un altro in gioco, vai Non posso Oggi però mi sento Coreografia Ah, questi sono quelli musicali Ricordati di eseguire la serie di pose alla fine Con il giusto tempismo Oh mamma Ok Proviamo Io non ho capito il funzionamento Però ci provo, ragazzi Oh Ho fatto troppo presto No, qua non l'ho fatto proprio Guarda, si chiudono E poi fai Ah, ok, ok, tutto chiaro Ah, ma lo devono fare loro No, ragazzi Non l'ho capito come funziona Un attimo No, Francesca È difficile Vai Ah, mo l'ho capito Ragazzi, dopo un quarto d'ora ho perso No, Francesca Qua io la rivingi Io non avevo capito Non lo faccio rifare la rivingita Ma non lo fa Ma perché? Ottimo Vabbè, guarda 10 e 17 Ci hanno stracciato No In botto si rivelano più forti di lui Vabbè, possiamo dire che abbiamo messo modalità difficile Però il funzionamento non è chiarissimo Sì, che è chiarissimo Devi seguire il tempo Forse è il primo minigioco che non mi piace Perché non è proprio chiaro Troppo veloce, mannaggia Ottimo Vedi, ok, ok Ci sto Ok Troppo veloci loro Troppo lento No, no, ragazzi Mo basta Mo diventerò campione mondiale Di No Dai, dai, dai Troppo veloce No No, nento No Vabbè, 27 e 23 Questa volta No, Francesca Hai vinto malissimo Mamma mia Ho vinto benissimo Casomai 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 Vabbè Vabbè che No, ragazzi Sto gioco non mi piace Facciamone un altro Assolutamente Vabbè, ormai Al momento ci troviamo in pareggio Comunque Ok Infilza la frutta La ce l'ho messo io Anche se non c'era Oh mamma Segui il ritmo Infilza la frutta Segui il ritmo Di La Kitu Di la Kitu Sì, sì, sì Mentre lancia i frutti Infilza Così si infilza Sono pronto Ragazzi In realtà Non tanto Però vediamo Allora sono più bassi Mannaggia La miseria Troppo presto Troppo veloce Ne ho preso uno Oh francese Stai zitto Che fai Che mi confondi Queste musichette Sono troppo carine Però Li abbiamo mancati tutti Ok Che poi sono tutti bassi Non mi è chiaro Quanto Devo Infilzare Ah, ok Devi andare al ritmo Devi andare al ritmo E ragazzi miei Che Wario c'hai distrutto Cavolo Pensavo di aver vinto io Pensavo di aver fatto più punti di tutti Tra i due Hai vinto tu No, voglio rifarlo Lo rifacciamo Ma che soste Basta Sti giochi ritmici Allora, adesso ho capito Ok Oh Sto volendo Ok Noi in questi momenti Siamo un po' più tesi E anche un po' più in silenzio Perché dobbiamo ascoltare Il ritmo No, no Ok È un pilo timido Oh yes Mamma mia ragazzi Che punteggio ho fatto Wow 45 Che punteggio Joseph the gamer Ragazzi oggi sto distruggendo Francesco Siamo 5 a 3 per te 5 a 3 per me Sì E ora Baseball ritmico Questa sezione qui è tutta delle cose ritmiche Perché gli ultimi due minigiochi che vedi qui si sbloccano Gioando al parco del ritmo Ah ok Quindi per forza sono tutti Va bene E anche qua quindi dovremmo stare sempre zitti Segui il ritmo e batti Se segui il ritmo puoi colpire in pieno anche la palla Ok, batti No ma è un ritmo un po' loro Nel senso che questo ritmo non lo sento Ando Che poi Goomba Cioè non c'ha le mani Con chi afferra Ottimo Yes Ma queste cose qua mi distruggono Ottimo Eh vabbè ragazzi Francesco la prova mi stato Oh yes Ottimo Smancato Veloce Attenzione a Wario Veloce Veloce Non vorrei mai stare vincita Francesco vai E 1 2 3 4 Lento Io non ho capito bene quale ritmo da seguire Sen sen Oh 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 Vabbè Vabbè un po' a capasola Sembra un po' quella cosa di Comorra in realtà Le canzoni di Comorra in Super Mario non credo No con il tuo con il pop Vedi Guarda che punteggione No Perché sto vincendo Yes Conclusione Sempre primo punto Cioè prima posizione per me Quindi mi dai un punto Francesca oggi Siamo per l'esattezza 7 a 3 7 a 3 quindi Facciamo un ultimo minigioco Un ultimo minigioco Vabbè Ci sto Battitalpa Vediamo in che consiste Vabbè sempre col ritmo Segui il ritmo e colpisci le salve Colpisci quando la luce ti rallunge Tan 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 Solo che mi dispiace Dobbiamo stare un po' zitti Perché dobbiamo ascoltare l'audio Cioè ragazzi che difficoltà Ma non sto parlando perché No vabbè ma lì C'è Wario ragazzi che 26 e 24 Ponteggio mio Ah vero Ponteggio tuo Però ragazzi Hai perso Hai perso comunque Ti puoi fare Di Ponteggio Tu qua hai perso comunque C'è ben poco Da aggiungere Franceschina mia Ragazzi questo video È stato un po' più silenzioso Del previsto Ma perché era coinvolta Tanta tanta musica Ma fateci sapere un po' Cosa ne pensate voi Con un bel commento Lasciate mi piace Se volete altri video del genere E per iscrivervi ai canali Cliccate qui sui pallini Mentre per vedere altri video Presenti sul mio canale Cliccate qui sulle miniature Io vi saluto E a domani Ciao Ciao